Il problema del paziente trappiantato renale si tratta di un paziente che ha una patologia complessa che si trova sottoposto a trattamenti immunosuppressivi molto importanti e che tuttavia, con il miglioramento di tutti questi trattamenti, oggi è un paziente che incontriamo sempre più frequentemente sia perché è aumentato il numero dei trapianti sia perché c'è un'aumentata sopravvivenza dei pazienti che hanno ricevuto un trapianto renale. Quindi nelle linee guida dell'American Society of Transplantation viene indicata la necessità che per questi pazienti vengano sviluppate delle linee guida specifiche per affrontare le patologie che incontrano durante la loro vita e quindi in particolare c'è un impatto notevole delle malattie cardiovascolari in generale in questa popolazione. Vediamo che le cause di morte appunto nel primo anno dopo il trapianto nel 60% dei casi sono proprio legate a problematiche trombotiche in senso lato. Quindi la causa cardiovascolare come principale causa di morte di questi pazienti che è un problema molto importante nel paziente nefropatico in generale migliora dopo il trapianto perché sicuramente è in ogni caso minore come impatto nel trapiantato di quanto non sia nel paziente in insufficienza renale terminale in trattamento dialitico. Quali sono gli aspetti fisiopatologici, ora senza entrare troppo nel dettaglio di questa situazione? Sicuramente la presenza di condizioni favorenti come l'ipertensione ovviamente che abbiamo in questi pazienti, le dislipidemie associate all'insufficienza renale, di peromocistenemia, quindi tutta una serie di condizioni che rendono ragione dell'aggravamento delle condizioni dal punto di vista dei fattori di rischio di malattia trombotica in generale. La presenza di uno stato protrombotico può essere legato sia alla malattia di base che ha determinato l'insufficienza renale terminale ma anche vedremo tutta una serie di condizioni legate proprio ai trattamenti e allo stato di immunosoppressione. Da questo punto di vista affrontiamo il problema sotto due aspetti fondamentali che sono da una parte tutto quello che riguarda la prevenzione delle malattie aterotrombotiche e poi vedremo invece tutto quello che riguarda i problemi di tromboembolismo venoso. Per quello che riguarda proprio l'aspetto malattie aterotrombotiche l'utilizzo dell'aspirina in prevenzione primaria in questi pazienti è considerato raccomandabile anche se non esistono dei trial specifici randomizzati che possono portare ad una conclusione definitiva su questo aspetto. Sono stata recentemente pubblicata questa metanalisi di studi, quindi sono 9 studi con circa 20.000 pazienti trapiantati renali e la valutazione dell'impatto dell'uso dell'aspirina in profilassi primaria sembra suggerire appunto che effettivamente questo uso abbastanza diffuso nella pratica clinica sia favorevole sia per quello che riguarda la prevenzione della trombosi del trapianto proprio stesso che della insufficienza progressiva dell'organo trapiantato. Naturalmente con un miglioramento anche per tutto quello che riguarda gli end point più squisitamente cardiovascolari, scusate, i macce e la mortalità. Che cosa succede nella pratica italiana? Ne abbiamo parlato ieri, messo in piedi questo studio con i centri di trapianto italiani e ne abbiamo approfittato incontrandoli per chiedere loro cosa fatti, qual è la pratica. Questa è una brevissima e sintetica risposta di una domanda che abbiamo posto a questo gruppo di colleghi che vengono da 11 centri di trapianto italiani e gli abbiamo chiesto cosa fate, utilizzate l'aspirina e vedete in sette centri la pratica della somministrazione di aspirina a tutti i pazienti che hanno subito un trapianto renale e invece in altri quattro centri naturalmente non è ASA 10 ma ASA 100 solo in casi selezionati. Quindi vedete il panorama non è assolutamente definito e sicuramente questo è un ambito di ricerca che meriterebbe e merita un impatto. Vediamo invece in generale i problemi che riguardano le complicanze emostatiche in generale nel paziente trapiantato e torniamo al momento dell'esecuzione proprio dell'intervento del trapianto perché questo è uno dei punti sui quali si discute ovviamente le modalità e la necessità di utilizzare una profilassi in quel momento. Il paziente che va incontro al trapianto arriva al trapianto in uno stadio di insufficienza renale terminale quindi ha una fase più o meno breve nell'immediato post-trapianto in cui l'organo trapiantato deve riprendere la funzione e quindi in cui di fatto il paziente ha un'insufficienza molto severa e quindi l'utilizzo dell'eparina in profilassi ha ovviamente dei problemi notevoli. Quali sono le complicanze emorragiche? Vedete la letteratura ci dà dei risultati abbastanza diversificati andiamo dal 2 all'8%, su questo impatta moltissimo una serie di condizioni legate alla modalità di esecuzione del trapianto all'esperienza del centro che affetto al trapianto all'età del donatore eccetera eccetera e questo rende ragione di questa grande variabilità. Quando sono invece le complicanze trombotiche che abbiamo le possiamo grossolanamente dividere in complicanze trombotiche precoci e più tardive prevalgono tra le complicanze trombotiche precoci tutte quelle che riguardano le trombosi sulla vena e sull'arteria renale al momento dei primissimi giorni nel post-trapianto e un'altra caratteristica complicanza grave queste sono in genere complicanze che portano alla perdita dell'organo quindi sono molto severe è quella della stenosi dell'arteria renale. in queste complicanze specifiche ha un impatto molto importante appunto tutto quello che riguarda problematiche squisitamente chirurgiche delle modalità di esecuzione delle anastomosi della tipologia dell'organo della sede destra o sinistra di localizzazione dell'organo eccetera poi abbiamo delle complicanze che sono solitamente tardive ma che possono anche essere precoci che sono un po' l'oggetto della nostra attenzione in questo momento che sono proprio le trombosi venose profonde che possono in qualche raro caso essere anche immediate ma che abbiamo visto nel paziente contrapianto renale protrarsi come complicanza anche più tardivamente e anche qui la letteratura ci dà appunto dei dati che variano tra il 4 e il 9% quali sono gli elementi che creano una difficoltà appunto nel trattamento di questo paziente appunto il fatto che da una parte esistono delle condizioni che favoriscono il sanguinamento nella fase acuta e che sono legate all'uremia stessa e quindi a tutte le alterazioni che ci sono sulla aggregabilità piastrinica sul vonville, una serie di condizioni che favoriscono appunto l'emorragia dall'altra parte però appunto anche moltissime condizioni che sono realtà protrombotiche e che sono state dimostrate in moltissimi dati sperimentali c'è poi un problema per quello che riguarda la persistenza di uno stato di percolabilità diciamo in termini più generici possibili nel paziente trapiantato che è legato a una serie di condizioni una di queste per esempio è la modalità di dialisi effettuata nel periodo pretrapianto dove la dialisi peritoneale è associata a un rischio maggiore di tromboembolismo venoso un altro dei problemi è legato alla temporanea presenza di un'eritrocitosi nel periodo immediatamente post trapianto ancora numerose condizioni protrombotiche sono state legate al rilievo alla infezione da CMV che nel paziente con immunosopressione è una complicanza importante e poi ci sono degli elementi che sono invece proprio strettamente legati al tipo di trattamento immunosopressivo che il paziente effettua e la ciclosporina inibitori della calcineurina sono stati associati vedete questi sono dati piuttosto datati appunto però è noto quindi da tempo che c'è una condizione protrombotica legata di per sé al trattamento con aumento di interleuchina, aumento dei livelli di fibrinogeno un'alterazione dei livelli di proteina C, alterazione della fibrinolisi quindi ci sono delle condizioni anche determinate proprio dal trattamento e tutti questi pazienti fanno trattamenti immunosopressivi combinati con due o tre farmaci di cui la ciclosporina è in genere il farmaco principale gli altri sono gli steroidi il trattamento a lungo termine costeroidi di nuovo determina delle alterazioni sulla fibrinolisi e sulle alterazioni del von Willebrand che si associano ad una condizione protrombotica questi sono dati più recenti specifici per quanto riguarda i farmaci cosiddetti MTOR che sono l'Everolimus e il Sirolimus che sono farmaci immunosopressori molto usati ancora nel trapianto e anche in questo caso abbiamo degli elementi che ci fanno vedere in maniera chiara la spinta trombotica che questi trattamenti determinano in particolare appunto i pazienti trattati con queste cose però quali sono a questo punto come vi dicevo nella complessità dei problemi abbiamo visto appunto i trattamenti ma ci sono anche delle condizioni legate al trapianto e alla chirurgia e al paziente sia in termini di ricevente che di donatore per esempio la struttura del rene trapiantato se ha una o più arterie renali e quindi la tecnica chirurgica viene a essere modificata se il donatore è un donatore molto giovane o molto vecchio e allo stesso modo il ricevente molto giovane o molto vecchio se esiste una trombofilia questo è un argomento abbastanza poco definito perché preoccupa in qualche caso molto i trapiantologi ma il suo raro impatto sulla storia del trapianto anche questo non lo conosciamo ci sono poi delle condizioni appunto abbiamo detto collegate al trattamento e ovviamente la possibile patologia da rigetto del trapianto sia acuto che ritardato che di nuovo impattano sulla storia della trombosi di questo paziente arriviamo a parlare appunto dicevo della parte che ci interessa più da vicino in questo momento che è la storia della trombosi venosa profonda e dell'ebolia polmonare in questi pazienti ci sono delle condizioni di nuovo di caratteristiche del paziente che possono influenzare questo e che non sono diverse in fondo da quelle che conosciamo in generale per la trombosi venosa profonda il fatto che ci sia appunto una trombofilia il fatto che ci sia una età più avanzata il fatto che ci siano delle condizioni di mobilizzazione l'intervento ovviamente il trapianto renale è una di queste situazioni ma alcune anche condizioni di base che hanno condotto all'insufficienza renale terminale come avere un rene policistico è una condizione che aumenta il rischio di trombosi venosa profonda in questi soggetti quindi partire come malattia che ha determinato l'insufficienza renale dalla malattia del rene policistico i dati sull'impatto come vi dicevamo di questa patologia nel paziente con trapianto renale sono diversi questi sono dei dati come vedete già di molti anni fa che sono però fatti su dei database di carattere amministrativo ci parlano quindi di un 1-5% su numerosità molto ampie di pazienti americani quando è il momento in cui viene la trombosi appunto dicevamo può essere anch'essa precoce nell'immediato post-trapianto ma può avvenire anche molto tardivamente quello che è interessante della trombosi che viene nell'immediato post-trapianto è che di solito è localizzato dallo stesso lato dal quale è stato impiantato il rene mentre questa caratteristica di lato si perde poi nelle trombosi più tardive altri altri elementi di nuovo sempre lo studio che vi facevo vedere prima vedete la caratteristica è sempre quella che la curva è più impennata nei primi mesi dopo il trapianto poi tende a crescere con minore pendenza e questo dato però anche che sicuramente la funzione renale residua dopo anzi recuperata dal rene trapiantato condiziona di nuovo il rischio peggiore la funzione renale maggiore è la probabilità in quest'altro studio vedete con un follow up molto più lungo dopo dieci anni parliamo intorno all'8-9% di pazienti che hanno sviluppato una trombosi venosa profonda questi sono dati nostri che abbiamo raccolto con la dottoressa Zanazzi parecchi anni fa e anche nella nostra casistica più o meno parliamo di un 9% con un follow up che è stato anche in questo caso molto lungo anche la nostra curva di incidenza vedete è molto simile a quelle che vi ho mostrato prima cioè c'è una maggiore pendenza nei primi mesi però poi continuiamo anche a distanza di molti anni ad avere in questi pazienti il persistere di episodi di trombosi venosa profonda questi sono dati pochissimi dati ci sono in letteratura su questo non per noi riporto dati nostri del 2005 ma perché non c'è molto di altro questo è uno studio bolognese del gruppo del professor Lamanna che ha riporta dati vedete intorno al 10% anche in questo caso simili in questa popolazione con un andamento che ha un picco maggiore intorno al sesto o settimo mese ma che è possibile poi ritrovare anche più tardi allora la domanda che ci vogliamo è ma quando facciamo un trapianto renale dobbiamo fare una tromboprofilassi e che tipo di tromboprofilassi tenendo conto appunto di quelle di quelle caratteristiche che vi dicevo di insufficienza renale severa importante che dura nei giorni dopo il trapianto in realtà i dati non ci sono questa è una metanasi molto recente 34 studi non abbiamo nessuna strategia indicata in maniera molto molto chiara ogni esperienza è un'esperienza del singolo centro e i vari centri hanno alcuni loro protocolli ma non abbiamo degli elementi che ci aiutino a capire qual è la strategia più adatta in questo contesto sono state fatte delle proposte come questa che ci dicono andiamo a vedere definiamo a un alto un rischio medio o un rischio elevato e decidiamo di conseguenza usiamo delle basse dosi di parina vedete noxaparina 2000 unità perché appunto abbiamo il paziente nell'immediato post trapianto in difficoltà dopo diamogli una aspirina se abbiamo un paziente con un rischio più elevato manteniamo le parina per tempi più lunghi se abbiamo un paziente con un rischio veramente elevato e una storia di trombofilia o di precedenti eventi lo passiamo poi ad un trattamento prolungato che cosa succede in Italia di nuovo al solito gruppo di centri italiani abbiamo fatto abbiamo fatto questa domanda e vedete che ancora sempre molto di più c'è un'incertezza in questo campo cinque centri fanno eparina basso peso molecolare per due settimane dopo il trapianto altri due per una sola settimana due per quattro settimane un centro non fa mai profilassi se non in casi molto selezionati quindi di nuovo mancano informazioni certezze in questo settore concludo dicendovi un'altra informazione breve sempre dagli studi che abbiamo condotto con la dottoressa Zannazzi anni fa quello che era emerso era che poi quando avevamo un paziente che aveva sviluppato una trombosi venosa profonda con trapianto renale avevamo registrato un altissimo rischio di recidiva questo l'avevamo confrontato in uno studio caso controllo con pazienti che avessero avuto una trombosi venosa profonda ma non il trapianto renale nel paziente con trombosi venosa profonda senza trapianto renale abbiamo una curva che conosciamo di recidiva a distanza di alcuni anni che è questa che vedete tratteggiata se il paziente aveva avuto un trapianto renale arrivavamo al 50% di recidiva nei due anni e mezzo successivi quindi questo è un altro degli aspetti che cercheremo di chiarire per quanto è possibile se riusciamo a portare avanti questi studi ed è effettivamente se l'impatto così elevato della recidiva può poi condizionarci una scelta di terapia a lungo termine perché nel nostro piccolo gruppo poi è vero avevamo ripreso la terapia ma avevamo avuto su 47 pazienti 5 eventi emorragici maggiori quindi la scelta di un trattamento a lungo termine in una popolazione a rischio emorragico così elevato ovviamente pone problemi specifici e importanti vi ringrazio di terapia di terapia Grazie a tutti